Importante successo dei giovanissimi dell'arco di Mr. Corraini, che nella seconda giornata delle fasi nazionali hanno battuto per 3-0 il Brixen. I gialloblu domenica prossima si giocheranno il tutto per tutto in terra friulana contro il Charles Muzzane, con un occhio che guarda all'altro campo dove si gioca l'altra partita tra il Giorgione e i brissinesi. Questa è la fase finale del campionato italiano categoria giovanissimi. Noi avendo vinto il campionato nostro provinciale, la provincia di Trento, oggi c'è la partita con il Brixen che ha vinto il campionato della provincia di Bolzano, poi abbiamo il Giorgione che ha vinto il campionato nazionale del Veneto e abbiamo la friulana, il Charlene del Friuli, che ha vinto il girone friulano, del campionato friulano. Ci incontriamo, da qua deve uscire una vincente, si gioca l'italiana, chi fa più punti passa nelle sei finaliste che si giocano, si contenderanno lo scudetto a fine di questi gironi. Allora, diciamo che la vittoria è stata importantissima e meritatissima dall'inizio alla fine, anche se abbiamo sofferto a tratti, ma siamo sempre venuti fuori in maniera pulita, senza alcun problema. Quindi una squadra questa che fa ben sperare per il proseguo di questa competizione interregionale? Speriamo di sì, bisogna vedere dei risultati che hanno fatto le altre oggi e andiamo a giocarci in Friuli, come abbiamo fatto tutto l'anno. Quindi domenica prossima siete in Friuli? Siamo in Friuli, in provincia di Udine. Siamo allora con Nicola Betta, autore di un gol se non erro, Diego Denardi, il capitano autore di ben due gol e Nicola Berardinelli, uomo assist possiamo dire, uomo del passaggio da gol. Allora partiamo da Diego, allora Diego diciamo qualcosa di questa partita, fra l'altro abbiamo saputo che il Giorgione che vi ha sconfitto è stato sconfitto oggi dai Friulani. Sì, non so in quanto. Comunque hanno perso, quindi siete a pari punti, c'è invece il Friuli che è a sei punti, cosa pensate di fare allora domenica prossima? Se non sbaglio andiamo sul giorno prima con l'idea di vincere e poi vediamo cosa fanno le altre squadre. Allora Nicola, anche tu un gol, raccontaci come hai segnato. Nicola ha fatto una finta, io mi sono fatto vedere, lui me l'ha passata e l'ho messa sul secondo palo. Nicola Berardinelli che fra l'altro ho sentito che sei sotto osservazione di qualche squadra, di qualche importante campionato, no? Cosa ci dici della partita di oggi allora? Ma nulla, è stata una partita molto molto intensa, dominata penso quasi tutto il primo tempo da noi, poi loro sono venuti un po' fuori ma senza dimostrare nulla di che, dominata da noi appunto e ce la siamo meritata, abbiamo dato tutto, come domenica scorsa, è andata meglio di domenica scorsa. Sì, che avete perso però avete giocato molto bene. Sì, sì, abbiamo fatto comunque una grandissima partita, ci hanno fatto i complimenti molti allenatori, molte persone perché è stata una partita molto combattuta. Abbiamo giocato bene, qualche errore in difesa ma ci sta e adesso si punta ad andare in Friuli a cercare di vincere per portarci in prima posizione.